25 presunti affiliati ai clan Strisciuglio e Mercante sono stati arrestati al termine di un'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Un duro colpo ai clan che tengono sotto assedio alcuni quartieri di Bari. I Mercante sono riferimento nel quartiere Libertà, gli Strisciuglio al San Paolo, insanguinandoli con una guerra di mafia per il controllo del territorio e per allargare le proprie zone di influenza. L'indagine rivela come lo spaccio di droga arresti è ancora il primo metodo di guadagno per le famiglie criminali del capoluogo, ma anche che le estorsioni sono una vera piaga del territorio barese, una piaga che talvolta impietosisce persino chi la deve eseguire. Davvero dell'ingiustizia e dell'odiosità di questo crimine, perché parlano di questo ragazzo, del proprietario di questo esercizio commerciale, che è un bel ragazzo, non è un brutto, è un bel ragazzo onesto. Perché devo andare a fare la prepotenza? Se non può, quello poi è stato sincero, ha detto l'incasso di domani, cioè di oggi e di giovedì, devo dare le mille euro a voi. Uno dei due autori dice, sì me li ha dati e me lo disse ieri sera che me li dava stamattina, non ce l'ha fatta ieri a farseli portare dall'amico suo, quindi non era neanche l'incasso se li doveva far dare da un amico. Li sta prendendo in prestito i soldi a interesse questo, che se li avevo io, gli dovevo dare io. Denunciare questo tipo di attività illecite porta benefici alla giustizia e spesso mette al sicuro proprio chi denuncia, afferma il procuratore aggiunto, Francesco Giannella. Chi denuncia al sicuro perché ci sono state altre indagini che hanno dimostrato che la collaborazione di cittadini è sempre stata premiata, che ha consentito di accertare fatti e di assicurare alla giustizia i responsabili. Quindi noi davvero incoraggiamo, tentiamo di stimolare i cittadini a collaborare con l'unica giustizia, che è quella dello Stato. I clan fanno e disfano in città, sono per esempio responsabili dell'incredibile numero di furti di automezzi avvenuti anche all'interno del policlinico, ma sono anche coloro che fanno ritrovare una moto ad un medico che dopo il furto si rivolge al boss per recuperarla, ottenendola senza dazioni di denaro. Per il boss però significa guadagnare in termini di influenza. Il punto che è un po' fastidioso è che anche una persona di elevata preparazione culturale si sia rivolta ad un boss per riottenere i suoi motoveicoli piuttosto che rivolgersi alla polizia. Luce è stata fatta anche su due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso con i quali gli uomini dei due clan hanno cercato di eliminare alcuni rivali con lo scopo di allargare le rispettive zone di influenza. Il primo dei tentati omicidi è del 27 marzo 2014 e ha avuto come vittima Vincenzo Valentino del clan Strisciuglio, sarebbe stato commissionato da De Bernardis ed eseguito da Riccardo Lucchesi e Michele Lorusso. Valentino si salvò perché si inceppò la pistola, doveva essere questa la risposta all'alcoltellamento avvenuto lo stesso giorno da parte di Valentino ai danni di Umberto De Meo, a coltellamento peraltro commesso per legittima difesa. Il secondo tentato omicidio fu commesso il 25 aprile del 2014 nei confronti di Alessandro De Bernardis e Riccardo Lucchesi ed è stato contestato a Giovanni Tritto e Cristian Cucumazzo, ritenuti esponenti del clan Strisciuglio, operante sul quartiere San Paolo di Bari ed anche in questo caso la pistola si inceppò.